Buonasera e ben ritrovati con Decoder. Continuiamo ad occuparci delle elezioni amministrative anche questa sera. Con un confronto in particolare ci occupiamo di Cazzano Sant'Andrea. Ma questo non è l'unico tema di questa serata. Poi ospiteremo anche le donne dell'era e musici di Rovetta per parlare di musica. E infine parleremo del famoso bonus degli 80 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti. Ma procediamo con ordine. Iniziamo dal confronto con i due candidati a Cazzano. Diamo il benvenuto e salutiamo Sergio Spampatti, candidato della lista della Lega Nord. Buonasera. Buonasera. Completiamo la sua presentazione dicendo che Spampatti ha 45 anni, è sposato con due figli, è direttore di filiale della Banca Popolare di Bergamo a Clusone e è alla sua prima esperienza in consiglio comunale. Continuiamo con Paolo. Carrara, candidato della lista civica Cazzano Sant'Andrea. Buonasera. Carrara ha 48 anni, è sposato con due figli, di professione è un imprenditore ed è già stato consigliere comunale di minoranza proprio con questa ultima legislazione. Il confronto, come già abbiamo fatto anche con altri paesi, ci porterà a prendere in esame alcune situazioni molto singolari per quanto riguarda Cazzano. Darò la possibilità ai candidati di rispondere però brevemente, ci sarà la facoltà per un secondo giro di eventuali puntualizzazioni e daremo poi, per quanto riguarda l'alternanza, daremo poi la possibilità di rispondere sentendo prima uno poi l'altro per primo in modo tale che non siano sempre le stesse persone, non sia sempre la stessa persona ad avere la prima parola. E quindi iniziamo proprio con questo confronto. tentiamo di completare la vostra presentazione tentando di capire come sono i vostri schieramenti, i vostri gruppi sotto un profilo politico. Partiamo da Carrara, partendo proprio in ordine alfabetico. La vostra lista o la sua persona ha qualche particolare connotazione? La lista civica Cazzano Sant'Andrea è composta da un gruppo di cittadini che sono liberi da legami di partito. Riteniamo però molto importante invece che ci siano persone presenti nella lista che abbiano figure professionali di un certo tipo. Noi appunto all'interno abbiamo un responsabile amministrativo, un architetto tecnico comunale, un ingegnere edile, degli impiegati tecnici e degli imprenditori. E questo ovviamente crea un gruppo competente e con un ottimo spirito di squadra che lavorerà con trasparenza amministrando il Paese all'insegna del bene comune. Spampati! Io sono candidato per la Lega Nord, che è un gruppo politico, è un gruppo che amministra Cazzano da ben 19 anni, secondo me in maniera molto egregia. La lista che mi sostiene è composta sia da consiglieri uscenti che hanno amministrato il Paese appunto negli ultimi anni, sia da giovani alla loro prima esperienza come candidati consiglieri. Riteniamo di aver messo delle figure di assoluto valore, dove troviamo sia l'esperienza e troviamo la freschezza e la gioventù e la voglia dei giovani. Parlando neanche con chi è 19 anni, che è in giunta e che amministra il Paese, mi diceva che erano anni che non vedeva un gruppo così in fermento. Ricordiamoci che oltre a noi, oltre ai 10 candidati, quando ci troviamo nelle riunioni, siamo sempre almeno in 15-20. Quindi dietro ce ne erano tanti altri e ce ne sono tanti altri che ci aiuteranno poi, perché riteniamo che amministrare Cazzano sarà fatto congiuntamente con tutto il gruppo. Quindi voglio coinvolgere completamente tutti. Ognuno porterà le sue idee e poi certamente ci sarà il sindaco che sarà il catalizzatore di tutto e quello che dovrà comunque tirare le somme di tutti i discorsi. Ed entriamo nel merito di alcune questioni. Sicuramente a Cazzano a Sant'Andrea la realizzazione dell'oratorio è stata una cosa importante per la comunità, però magari ci sono alcune cose da puntualizzare o si può prendere un po' in esame questa situazione. Partiamo da Spampati, cosa ne pensate voi? L'oratorio è un'opera che secondo me a Cazzano ne aveva bisogno, ma non da pochi anni. Io pur abitando all'Effe fino a dieci anni fa ho sempre giocato nelle squadre di Cazzano al pallone e mi ricordo che già 15-20 anni fa si parlava di avere un oratorio nuovo perché era già abbastanza obsoleto il vecchio. Siamo contentissimi che era un sogno, era un sogno perché servivano soldi, servivano tanti fattori che questi fattori si sono incastrati grazie anche al contributo che sono arrivati a Cazzano e alla volontà dei precedenti amministratori. Vedo che tutto il Paese è impegnato, ha dato una mano, i precedenti amministratori e il sindaco uscente, Emanuele Avian, hanno dato il loro personale contributo con le indennità, rinunciando a parte delle indennità e anche un sostanzial contributo di 25 mila Euro. Ripeto, è una gioia, secondo me è una gioia per tutto il Paese perché Cazzano è un Paese dove sono arrivate molte coppie giovani, ci sono tanti ragazzini, io stesso ho due figli adolescenti e quindi l'oratorio secondo me era l'opera numero uno e era un sogno, era un sogno e siamo contenti che fra pochi mesi sarà realtà. Carrara? Ma niente, sicuramente penso che sia stata un'opera importante per tutto il Paese e questo non c'è nessuno che può negarlo perché è un oratorio comunque fa parte sempre appunto della comunità e noi lo riteniamo uno dei luoghi importanti appunto per il nostro progetto di fare comunità. Dobbiamo dire, questo purtroppo è obbligo perché siamo stati attaccati molto su questo aspetto per l'oratorio che eravamo contro, però vorrei chiarire che non è vero che lo siamo contro ma eravamo praticamente per una tecnica diversa del contributo comunale per i parcheggi. e questo ovviamente ha creato un po' di malumore in sostanza. Quindi questa tecnica era sostanzialmente per dire non diamo questo contributo comunale che quindi è di tutti i cittadini, non con un contratto d'affitto perché anche una volta che sarà scaduto bisognerà essere rinnovato, quindi altre risorse qui usciranno. Quindi penso che appunto sia un'opera che sarà importante per il paese e noi siamo assolutamente convinti che lo farà. Allora chiedo ai miei ospiti se c'è bisogno di eventuali precisazioni. Volevo solo dire che in effetti in commissione queste perplessità loro le avevano dette e gli era stato chiesto effettivamente già quando erano minoranza di fare una proposta alternativa a questo contributo dei parcheggi. Sembra che a distanza di due anni questa proposta la stiamo ancora aspettando. Carrara? Semplicemente il discorso che sia stata fatta la possibilità di dare le controproposte non è proprio così perché non siamo stati mai anche nelle commissioni esterne informati di certe situazioni. Pertanto lo crediamo che questo qui appunto sia stato molto strumentalizzato l'oratorio e probabilmente conviene smetterlo di farlo. Io quindi direi che non c'è nient'altro da dire. Dobbiamo andare avanti con un altro argomento. A Cazzano in campagna elettorale si sta parlando anche del centro storico, in particolare della piazza principale. Qui cosa avete in mente? Partiamo da Carrara. Allora questo qui è un tema caro, a noi caro appunto perché già da 5 anni nella precedente legislatura e nel nostro precedente programma abbiamo inserito appunto la ristrutturazione del centro storico e della piazza perché ritenevamo appunto una cosa molto importante, cioè quindi non andare a costruire l'utilizzazione nei prati ma semplicemente mettere a posto la parte diciamo così centrale del paese. Crediamo che appunto il completamento di Camani con il nuovo oratorio diventeranno parte integrante di questo progetto di riqualificazione del paese. Vorrei dire anche questo che appunto i nostri figli devono poter fare questo percorso con la massima sicurezza e questo ovviamente porterà anche a rivedere il comparto della viabilità. Questo ci permetterà poi anche di creare aggregazione con tutti i cittadini e questo ovviamente diventerà vantaggio per tutti e anche per i commercianti che ovviamente si vedranno più popolato il centro. Spampati, se parliamo di piazza e parliamo della piazza è un'altra esigenza che Cazzano ha da tantissimi anni. Addirittura ho parlato anche con persone che facevano parte di amministrazioni vecchissime e già nel fine anni 80, inizio anni 90, prima ancora che arrivasse la mia stazione Lega si parlava già di un progetto piazza Cazzano Sant'Andrea. Effettivamente è un sogno anche quello, secondo me, come lo era l'oratorio. È un sogno perché costa tanti soldi, perché realizzare una piazza non sarà facile perché ci sono case di proprietà parzialmente già del comune ma ci sono anche case di proprietà di privato e che quindi bisognerà naturalmente pagare per il loro valore. Quindi anche la piazza diventa un sogno, però come l'oratorio è diventato realtà io non dispero che anche la piazza possa diventare tale. Secondo me siamo in un momento molto difficile, secondo me. Siamo in un momento molto difficile da un punto di vista economico, lo vediamo su tutti i giorni, sappiamo del patto di stabilità, però se hai un progetto pronto, se hai le idee giuste nel momento in cui ci fosse un bando, nel momento in cui ci fosse la possibilità vuoi un contributo della regione, vuoi un contributo statale, vuoi un bando europeo se hai il progetto pronto potresti essere, attaccarti al carro giusto e prendere i soldi e a quel punto si potrebbe veramente partire. La piazza secondo me vuol dire vivere il centro, vivere il paese, la piazza è il numero uno del paese. Voleva forse dare una precisazione? Chiaramente il discorso della possibilità di poter avere dei finanziamenti o poter accedere dei bandi, questo penso che sia l'obbligo di ogni amministrazione. Quello che non va fatto, secondo noi, quello che sostanzialmente sta andando avanti nella campagna elettorale vostra, che è quello appunto di fare dei progetti senza magari neanche aver sentito, essendoci appunto, come giustamente diceva, delle proprietà dei cittadini, di fare appunto dei progetti senza neanche interpellarli. Chiaramente quello che noi vorremmo evidenziare, vorremmo anche fare una differenza rispetto appunto a loro, è che per noi è fondamentale il coinvolgimento dei cittadini e il confronto. Quindi la piazza si farà se la gente del paese la vuole e in che modo la vuole. Spampati. Direi che se facessimo un referendum a Cazzano la piazza la vorrebbero praticamente tutti. Io vivo il paese, parlo con la gente, vado nei bar del paese, vado nei negozi del paese, parlo tanto con le persone, la piazza è un'energia garantita. Certo, rispetto il privato, che poi è un privato, non i privati, ma è uno solo. Lo rispetto e ci mancherebbe. Però è chiaro che se devo realizzare un progetto, io lo devo fare e devo essere pronto. Dal progetto a realizzarlo, se ne passa, è uno degli step, dei passaggi ad arrivare all'attuazione, sarà quello di parlare col proprietario. Massimo rispetto per le persone, ci mancherebbe. Però io devo pensare che un domani dovrò amministrare un paese, l'esigenza del paese è quella che la piazza ci debba stare. La gestione dei servizi in forma associata è un altro tema che anima tanti paesi della nostra valle. In passato, in Val Gandino, anche in tempi non sospetti, c'è chi, un amministratore in particolare, aveva lanciato l'appello del Comune Unico. Sentiamo un po' i nostri candidati, qualora si dovesse arrivare a parlare di un tema come questo, anche in Val Gandino, ovvero arrivare alla fusione dei comuni, creare un'unione dei comuni o la gestione dei servizi in forma associata. Voi cosa avete pensato? Cosa c'è nel vostro programma o perlomeno cosa avete in testa? Ripartiamo da Spampatti. Noi a Cazzano è già da anni che siamo in consorzio per esempio per i vigili con il Comune di Leffe. Abbiamo il rappresentante dell'ufficio tecnico e anche il segretario comunale in compartecipazione con il Comune di Peia. Una nostra dipendente comunale sta già facendo delle ore presso il Comune di Peia. Quindi queste aggregazioni, queste sinergie dei servizi già le stiamo attuando e secondo me sono il futuro, perché se vogliamo parlare di riduzione dei costi dobbiamo andare a parlare dei servizi. L'aggregazione in un Comune unico, visto, inteso come un discorso meramente politico, cioè fare un unico Comune, secondo me non ha senso, perché non porta a un vero risparmio dei costi, è solamente una mera operazione di facciata. Per esempio, pensiamo all'accorpamento delle comunità montane. Ci troviamo due comunità montane e adesso abbiamo due segretari in un'unica comunità montana. Quindi alla fine è stato un accorpamento sui generis. Lo stesso accorpamento delle province che sta venendo avanti, bisogna avere il smelmamento delle province, nella realtà non sarà una riduzione dei costi, perché tutti i dipendenti delle province resteranno. Quindi bisogna parlare di servizi, allora sì, noi siamo per l'accorpamento dei servizi. Carrara. Sicuramente è un tema molto importante, per quanto riguarda l'unione appunto di certi servizi, come appunto diceva. Peraltro saremo sempre più spinti verso queste soluzioni dell'amministrazione centrale. Quindi diciamo che per il risparmio delle risorse sicuramente questo è una cosa che è doverosa e bisognerà sempre spingersi più in là possibile. Vorrei dire che appunto Cazzano fa parte già del distretto delle 5 terre della Val Gandino e crediamo che appunto in questo senso si debba collaborare ancora di più per rendere appunto i nostri comuni sempre più vicini. Ma anche perché poi ci sono delle scelte strategiche soprattutto che coinvolgono il territorio e anche altre funzioni. Quindi credo veramente che bisognerà dialogare molto con i comuni vicini per questo. Un altro tema interessante sicuramente è quello che riguarda la sicurezza. La Val Gandino in passato è stata bersagliata da numerosi furti. Sentiamo un po' i nostri candidati cosa ne pensano, cosa si può fare, cosa è stato fatto, cosa avete in mente a tal riguardo. Ripartiamo da Carrara. Ma niente, pensiamo che la sicurezza del cittadino sia fondamentale per vivere in un ambiente più sereno. Questo penso che nessuno abbia qualcosa da dire in questo senso. Peraltro appunto confermeremo la convenzione, che è quella che stava dicendo appunto prima, con il comune di Leffe, però stiamo pensando anche a un potenziamento di questa convenzione e appunto dei vigili urbani chiaramente, per rafforzare anche il presidio che non è escluso, che possa anche essere valutato in orari serali. Verrà dato sostegno anche al progetto della comunità montana appunto per riguardo al discorso del videocontrollo e degli accessi della valle. E questo sicuramente potrà anche essere questa una cosa diciamo così interessante. E poi si valuterà anche eventuale necessità di installazione di impianti di videosorveglianza in punti del Paese particolarmente sensibili appunto a un ulteriore controllo. Spampati? Per quanto riguarda la Lega Nord, parlare di sicurezza, sappiamo tutti che è un tema sensibilissimo. Sensibilissimo. Noi siamo stati tra i primi comuni in comunità montana a spingere tantissimo il progetto Cancelli Elettronici. Il progetto Cancelli Elettronici oggi sembra che sia giunto a conclusione e sembra che ci siano anche i fondi per poterlo realizzare. Grazie soprattutto al contributo di alcuni comuni, tra cui sicuramente Cazzano Sant'Andrea, perché ci sono state tantissime riunioni in comunità montana in cui Cazzano Sant'Andrea ha spinto molto per il progetto Cancelli Elettronici. Cancelli Elettronici, per chi non lo sapesse, la Val Gandino ha tre accessi fondamentalmente, quello da Fondo Valle, quello dalla parte della Valle Rossa e quello da Casnigo, dalle Rieda P. Quindi con questi cancelli elettronici verranno monitorati tutti gli accessi, tutti i transiti delle macchine in Val Gandino. Per carità, se uno lo volesse vedere sotto un punto di vista privacy, qualche problema potrebbe esserci, però nella realtà sono tutte registrazioni che verranno tenute conto solo esclusivamente in ambito della sicurezza. Quindi a quel punto penso che sia un vantaggio per tutti noi. Noi puntiamo molto su quello. Vorrei dire una cosa, non so chi abbia dato il nome ai cancelli elettronici, ma mi sa tanto di una cosa forse troppo chiusa. Il concetto sicuramente può essere positivo, può essere di controllo e deve avere ovviamente una finalità di sicurezza e non sicuramente di spionaggio. Però ecco, probabilmente l'avrei chiamato in modo diverso. Spampati, vuole aggiungere qualcosa? La sostanza è che se ci sono siamo tutti più tranquilli. Ok, arriviamo quindi alla fine di questo confronto. Poi Decoder continuo, ma prima di lasciare i nostri due candidati diamo loro spazio per un ultimo appello al voto, almeno televisivo, quindi potete motivare il perché gli elettori di Cazzano a Sant'Andrea dovrebbero votarvi. Sentiamo Spampati poi Carrara. Per quanto mi riguarda io sono nuovo perché è la mia prima esperienza, però sono sempre stato interessato alla politica e ritengo di avere anche delle competenze, anche lavorativamente parlando, che mi hanno portato a avere contatti con i sindaci, anche con la comunità montana e quindi ho già frequenti contatti con questi enti. Perché dovrebbero votarci? Secondo me Cazzano è stato amministrato in maniera egregia. Sono 19 anni che il paese ha sviluppato. 19 anni fa aveva 1200 abitanti, 1200 erotti, oggi ne ha 1630, il 30% in più. In paesi dove sono aumentati il 30% la popolazione, l'urbanistica, i servizi hanno avuto molti problemi. A Cazzano ritengo che questi problemi siano stati superati grazie all'ungimiranza degli amministratori precedenti. L'oratorio è il fiore all'occhiello, ma ripeto, le opere che sono state fatte a Cazzano. Abbiamo fatto un calcolo in questi 19 anni, la Lega ha portato a Cazzano oltre 3 milioni di Euro a fondo perduto, quindi non in tutti i paesi ciò è successo. Quindi ritengo che sulla falsa riga di quello che sono state le precedenti amministrazioni spero che i nostri concittadini ci premiano perché vorrebbe dire che abbiamo lavorato veramente bene come io ritengo che le precedenti amministrazioni hanno fatto. Carrara? Ci sarebbe da dire sui 3 milioni di Euro da portare perché poi sarà da vedere come. Noi della lista civica di Cazzano-Sant'Andrea vediamo appunto un paese nel quale ci sia la partecipazione, la condivisione dei temi e delle problematiche, cari cittadini. E questo sia appunto la base della nostra azione amministrativa. Noi stiamo pensando a una riqualificazione del centro del paese che metta in comunicazione i luoghi, cari cittadini. Tutto questo attraverso il coinvolgimento e il consenso della comunità. Riteniamo che appunto a Cazzano oggi sia giunta l'ora di dare la possibilità di amministrare a delle persone che vogliono impegnarsi per la comunità con trasparenza, partecipazione e confronto. Ok, siamo arrivati quindi alla conclusione di questo confronto, ci fermiamo per la pubblicità, il rientro riprendiamo con le donne delle re musici di Rovetta. Tra poco.